Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Il Vangelo di questa domenica ci consegna due punti fondamentali per crescere nella comunione fraterna. Primo, la correzione fraterna. Secondo, il pregare insieme, uniti e concordi. Partiamo dalla correzione fraterna. Teniamo conto che ci troviamo nel cosiddetto discorso ecclesiale di Matteo, dunque un discorso che Gesù rivolge alla comunità. La domanda è se un fratello o una sorella peccano contro di me, che fare? Far finta di niente? Sparlare? Vendicarmi? Tagliare i ponti? No! Gesù ci consegna una pedagogia del recupero. Il primo passo è vai tra te e lui solo e ammoniscilo, cioè vai e chiarisciti di persona. Vai con umiltà facendo notare a quel fratello, a quella sorella, che quella cosa che ha fatto non è buona, la ferita che ti ha arrecato, partendo magari dal cercare di capire perché ha fatto così. Noi a volte invece cosa siamo tentati di fare? Di dirlo a tutti tranne che all'interessato, spargendo così chiacchiere e maldicenze? Oppure preferiamo tacere per quieto vivere? Ogni giorno abbiamo tante situazioni dove siamo chiamati a scegliere, salvare la faccia o dire la verità? Amare di più la nostra immagine agli occhi dell'altro o amare di più l'altro nella verità? È vero, a volte non è facile mettere in pratica questo insegnamento di Gesù, c'è il timore che la persona reagisca male, a volte manca la confidenza con lei, ma è questa la strada. È questa la strada per crescere, la via per una comunione autentica. E qual è la finalità della correzione? Se ti ascolta, dice Gesù, avrai guadagnato un fratello. Si tratta di guadagnare quel fratello che si stava perdendo col peccato, con il quale si stava perdendo una relazione di comunione. E allora ecco che l'amore spinge a correggere, a fare di tutto per aiutare la persona a prendere consapevolezza di sé e del male che ha scelto. Noi a volte pensiamo che correggere significhi sbattere in faccia le cose alle persone, brandire la verità come una spada da tirare in testa alla gente, ma non è questo. La finalità della correzione è recuperare quel fratello, quella sorella, guadagnarlo al bene, aiutarlo a prendere consapevolezza di sé, dunque aiutarlo a maturare. La correzione, diceva un padre della chiesa, è come una chiave che serve ad aprire la coscienza, a vedere colpe che a volte si ignorano e la correzione in particolare deve essere fraterna, cioè mossa dall'amore. E' interessante notare, miei cari, che il nostro testo è incastonato tra altri due testi. Prima abbiamo la parabola della pecora smarrita, dopo avremo la parola sul perdonare 70 volte 7. Dunque la correzione è mettere in atto questa ricerca del fratello o della sorella che si sta smarrendo con un cuore libero dal risentimento. Quindi prima di correggere dovremmo anche chiederci perché voglio dire questa cosa? Per il bene della persona o per vendicare il mio orgoglio ferito? Ho un cuore libero verso di lei o ce l'ho con lei e finalmente ho l'occasione di togliermi qualche sassolino dalla scarpa? Andiamo avanti! Ma se non mi ascolta? Io ci ho provato, manisba, niente. Allora che faccio? Lo lascio perdere? Mi faccio i fatti miei così campo cent'anni? No, tutto questo non è cristiano. Gesù dice se non ascolterà prendi ancora con te una o due persone perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Abbiamo qui un retroterra giuridico, biblico, che non approfondisco, ma il punto qual è? Dato che la persona non mi ascolta, pensa di aver ragione o pensa che abbia io torto e persevera nel suo male, mi faccio aiutare da due o tre persone, da qualche fratello, sorella di comunità, perché partendo da una prospettiva evangelica possano aiutarlo anche loro a riflettere, a capire che sta sbagliando, che sta facendo una figuraccia. Se ci ascolta avremmo guadagnato un fratello e se non ascolta dillo alla comunità, dice Gesù. Ci sono dei casi in cui è necessario avvisare la comunità, confrontarci tutti insieme, anche con i responsabili della comunità e dunque con i responsabili anche di quella persona, perché in tal modo la persona possa essere aiutata a rendersi conto di sé. E se non ascolta nemmeno la comunità, sia per te come un pagano e un pubblicano. Che significa? Buttalo a mare, lascialo perdere. No, significa amalo così e com'è, accettando che per ora arriva lì, senza pretendere qualcosa che, almeno in questo momento, non può dare. E se anche in casi estremi fosse necessario fare un passo indietro nella relazione, ciò sia a fine medicinale, per aiutare la persona a rendersi conto della distanza che ha creato con le sue scelte, pregando per la sua conversione, disposto a fare un passo incontro qualora ve ne fosse l'occasione. Capiamo bene, miei cari, abbiamo qui un'arte, di cui lo Spirito Santo è maestro, l'arte di correggere. Chiede di saper coniugare dolcezza e fermezza, giustizia e misericordia, e abbiamo davvero bisogno di avere un cuore aperto alla grazia per impararla. Ma facciamo attenzione, potremmo correre il rischio di pensare che siamo sempre noi a dover correggere gli altri, ma spesso siamo noi a dover essere corretti. E quanto è difficile lasciarsi mettere in discussione, specie se la correzione ci viene fatta in malo modo. È vero che, come dice la lettera agli ebrei, ogni correzione lì per lì causa inquietudine, smuove un po', ma poi arreca un frutto di giustizia e di pace per coloro che la accolgono. Il problema è che tante volte noi rifiutiamo la correzione, difendendo strenuamente il fortino della nostra immagine, chiusi nella roccaforte dell'orgoglio. Quante volte sono io quello che non ha ascoltato, in primis che io accanto, e poi altri che magari mi hanno detto la stessa cosa, negando anche l'evidenza e magari rispondendo tu non mi capisci. Dobbiamo fare attenzione. Se me la prendo a male per una correzione, passando dalla rabbia al mostrarmi offeso o semidepresso per giorni e giorni, c'è qualcosa che non va. Qualche domanda dovrei farmela. Se infatti quel problema non c'è, perché me la prendo? Forse la persona accanto ha un problema o vuole dirmi altro. Se invece me la prendo così, non è che mi ha colto nel vivo? È che quel problema ce l'ho, ma ne sono attaccato? Oppure ho quantomeno un orgoglio smisurato? Oppure una profonda immaturità? Miei cari, se vogliamo crescere dobbiamo saper accogliere il dolore che ci dà una critica, anche se cattiva, perché è salvifico. Ed eccoci al secondo esercizio di comunione. Gesù dice, in verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che nei cieli gliela concederà. Perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono lì, in mezzo a loro. È una promessa enorme, vera, sublime. Quando una richiesta nasce dalla preghiera di due o tre persone che si vogliono davvero bene, che si accordano tra loro, come due strumenti. Qui abbiamo il verbo sinfoneo, creando una sinfonia di intenti, una sintonia di cuori. Quando due o più persone sono riunite nel nome di Gesù e chiedono dunque ciò che giova la salvezza, ciò che è il vero bene, il Padre non resiste. Concederà quanto richiesto, quando e come lui sa. Perché lì nel mezzo c'è Gesù, perché lì circola amore e dov'è carità e amore lì c'è Dio, dice un famoso canto. E Dio non resiste alla logica dell'amore, perché Dio è amore. Dunque, più il bene è autentico, più c'è unità di cuori ed intenti, più la nostra preghiera è efficace. Chissà, forse per migliorare la nostra preghiera potremmo migliorare la qualità delle nostre relazioni. Ci abbiamo mai pensato? Ad esempio, in convento non sopporto i miei confratelli o le mie consorelle. Non ne voglio che sapere, ma poi preghiamo insieme? Per carità, meno male che almeno preghiamo. Ma mi chiedo, quella preghiera arriva almeno al soffitto? Ecco, ognuno applichi questo esempio al suo stato di vita e chiediamoci, preghiamo insieme? A casa? In famiglia? In comunità? E siamo d'accordo? Ho un cuore libero verso tutti? Cerco l'unità con tutti? E a messa? Beh, forse a volte la qualità della preghiera lascia un po' a desiderare. Basti pensare alla preghiera dei fedeli. Mediamente viene letta una serie di formule preconfezionate, che a volte il lettore non ha neanche visto prima, per cui legge fischi per fiaschi, a cui tutti rispondono meccanicamente ascoltaci o signore. Sarebbe interessante fermarci e chiedere al volo per cos'è che abbiamo pregato? Ecco, chiediamoci, ma si prega davvero con il cuore per quelle intenzioni? E soprattutto uniti gli uni agli altri? È triste dirlo, ma a volte vi sono in chiesa persone in difficoltà persino allo scambio della pace, che si rifiutano di girarsi, perché hanno visto che hanno dietro, o di tendere la mano per quisquiglie irrisolte. Altro che pregare uniti e concordi. Ripeto la domanda, ma le nostre preghiere in queste condizioni arrivano almeno al soffitto? Ora, la cosa più importante non è essere riuniti nello stesso luogo, ma essere riuniti nel nome di Gesù. La cosa più importante non è sfornare preghiere altisonanti, ma pregare in unità di intenti. Al Signore interessa anzitutto la comunione tra noi, poi ci dà quel che chiediamo, perché se siamo uniti a lui è tra noi, chiediamo cose belle, che giovano alla salvezza. Ricordo una storiella semplice ma commovente. In un piccolo paesino vi era una forte siccità e il parroco convocò la piccola comunità cristiana del luogo, una comunità piccolina ma unita di persone semplici che si volevano bene, per pregare insieme, per chiedere a Dio il dono della pioggia. L'uomo di Dio si commosse al vedere arrivare una bambina con un ombrello in mano e le chiese piccola mia perché hai portato l'ombrello? Perché sono certa che Dio padre ci esaudirà, fu la risposta. L'ha detto Gesù. Cari fratelli e sorelle, che il Signore ci aiuti dunque a vivere una fraternità autentica, pregando insieme, correggendoci, cercando al di sopra di tutto l'unità nella verità e nella carità. Certi che dov'è carità e amore. Lì c'è Dio. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.